Milady è una metice di 6 anni e pesa 12 chili. Il cibo è la risorsa primaria per rinforzare un comportamento desiderato, ma dispensarlo senza una ragione gli toglie valore. Milady dovrebbe imparare a guadagnarsi i suoi premietti e la sua padrona a concederli solo per rinforzare un comportamento positivo.